Consorzio e provincia regionale di Ragusa alla ricerca di una strada per salvare il corso di mediazione linguistica. La partita si gioca su un doppio tavolo per salvare i corsi universitari. Da un lato l'accordo transattivo proposto dal magnifico rettore dell'Ateneo di Catania, Antonino Recca. Dall'altro la provincia regionale di Ragusa che insieme al consorzio universitario stanno lavorando alacremente per trovare una soluzione e salvare i corsi di laurea. E mentre le riunioni si susseguono, sulla vicenda prende posizione Giovanni Avola, segretario generale CGL, che si dice preoccupato per l'avvertenza creatasi sull'università in provincia. Per Avola occorre che la politica delle istituzioni si metta in moto perché attorno ad un tavolo nel quale CGL e Cisle Will vogliono scommettersi si possa concretizzare un punto di compromesso alto su una soluzione sostenibile con i costi e quindi con le esigenze di tutti, provincia, comune di Ragusa e università di Catania. Intanto il consorzio Ibleo perde un altro pezzo importante. Il Consiglio Comunale di Modica ha approvato la revoca dal consorzio a causa di problemi finanziari.